La crisi in Libia fa temere ripercussioni in campo energetico e l'impennata dei prezzi del petrolio apre altre incognite per l'economia globale. Secondo le ultime informazioni in arrivo dal paese, poi, i rivoltosi avrebbero strappato al controllo del regime i principali terminal a est di Tripoli. Difficile prevedere le ripercussioni della crisi nella produzione del greggio, alcune stime parlano della metà dei barili al giorno. Tra i paesi più esposti, l'Italia, che conta per oltre il 20% sulle forniture libiche. L'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni. Abbiamo i campi onshore, in particolare Wafa, che è nell'ovest della Libia, che funziona regolarmente. Quindi, certo, siamo naturalmente in una situazione un po' di emergenza, ma le cose vanno avanti. La produzione Eni, primo produttore straniero in Libia, è più che dimezzata, ha fatto sapere Scaroni. La Libia, tuttavia, può essere rimpiazzata da altri fornitori, ha aggiunto. E l'Italia può stare tranquilla, nonostante le minacce di Gheddafi di blocco dell'export.